Sono Silvia Di Luzio, medico specialista in cardiologia, mi occupo principalmente di psicocardiologia e cardiologia metabolica e sono molto interessata allo studio delle emozioni come fattori di rischio cardiovascolari, anche allo studio dei pensieri della parte più energetica ed è per me un onore far parte come docente della Scuola di Alta Formazione in Epigenetica dove appunto insegno questi aspetti molto sottili ma molto importanti legati a un aspetto multidimensionale dell'essere umano e quindi anche a nuovi fattori di rischio cardiovascolari che non possono più essere in alcun modo ignorati. Questa scuola è una occasione meravigliosa per chiunque abbia voglia di informarsi e formarsi al meglio sulle nuove tecnologie ma anche sull'aspetto della medicina funzionale che diciamo purtroppo nella medicina tradizionale viene un po' tralasciata e quindi invito quante più persone possibili ad affacciarsi e a sperimentare questa esperienza che è davvero unica e meravigliosa. Quindi ringrazio moltissimo a Giorgio Terziani di questa opportunità perché ognuno di noi che è docente e anche discente in questa scuola è infatti per noi importante anche partecipare sempre alla formazione per poter essere sempre up to date.